Amici del 4 World Cup, quarta giornata, girone 5, big match qui allo Sport City tra Romulia, Friends e Bliss Euro, entrambe le squadre con tre vittorie a nove punti. Mazzesi respinge la barriera, poi Chirico, può tentare il destro dal limite Manganelli ed è vantaggio per la Romulia in Friends, nulla può dei amici. Con il sinistro perfetto per il controllo di petto, con il destro al volo, stava per trovare un super goal Gavioli. Fronteggia Liguori, ancora Mirante, tutto Mancino, c'è col tacco per Citro, ottimo il destro a cercare e trovare Manganelli, Pantaleoni, lungo il lancio e di testa il miracolo di Boni, che parata ha fatto. Liguori, ottima la sponda per la conclusione, ancora Boni con un miracolo. Cerca il pallone per Temperini ma riparte con grande pericolosità la Romulia, pallone sulla sinistra per Mazzesi, il sinistro di poco fuori. Citro dal limite nell'area. Pallone per Citro ancora, dopo l'1-2, poi con il tacco, pallone lungo, ma alla fine giunge tra i piedi del numero 10 che la mette in area e conclude con il 2-0 la Romulia in Friends su un errore in disimpegno del Bliss, il gol che può decidere i tre punti. Temperini che prova il destro, Gavioli sulla traiettoria e poi ancora Boni. Bravo Roversi e finisce qui il big match della quarta giornata. Pittoria per la Romulia in Friends per 2-0 contro il Bliss Euro che rimane a punteggio pieno, a zero gol subiti. Sì, è merito della squadra, è merito mio e solo della difesa, è merito di tutta la squadra, oggi siamo stati pure fortunati e il portiere è stato un paio di interventi decisivo a tu per tu. Però la vittoria è un po' sofferta, loro sono una buona squadra, stiamo a pari punti, abbiamo guadagnato questo primo posto del girone matematicamente e niente, andiamo avanti per la nostra strada. L'obiettivo è vincerlo chiaramente. So che ci sono altre squadre competitive e forti magari quanto noi per vincerlo, però insomma non ci sentiamo inferiori a nessuno.